Allora, Bucero, come è andata il lavoro? Perché sono arrabbiato e voglio parlarne. Ero arrabbiato quando l'ho scritto. E' ancora piuttosto arrabbiato con te. Vieni. Ok, ma perché ti comporti del male? No, niente. Non è fatta apposta. Perché l'ufficio, perché sono stato in molto lavoro da quella parte. Ah, hai ragione. Vuoi vedere? Ok, andiamo. Ah, questi, questi cuccioli mi impediscono di essere arrabbiato con te? Ah, non capisce niente. Tokus. Tokus, perché mi ha fatto, perché mi hai preso quel cucciolo negozio degli animali? Il negozio. Sono andata dall'altra parte. Non torneremo mai più. Cosa? Non torneremo mai più? No, no, Bucero. Non buttare. Quello è il mio pello del cucciolo del cane. E' carino. Certo. Ok. Sta calmo, perché io... No. Ti vogliamo impa... Facciamo pace? Certo. Pace. Qualcosa o indire di cena? No.